Gara 1 di semifinale playoff alla ILT quotidiano Arena fra una Trento che riposava ormai da una settimana e una vero volley Monza che invece arrivava dalla battaglia al meglio delle 5 partite vinta soltanto all'ultima contro la Lube. Dunque in campo una squadra un po' arrugginita, Trento e una un po' affaticata Monza. E si è visto nel primo set, in particolare per i trentini che hanno faticato ad entrare nel ritmo di gioco con Monza che si è portata avanti ha avuto una grande chance per vincere il primo set sul 22-19 e poi 23-22, tre set point che non ha sfruttato mentre dall'altra parte due attacchi di Micheletto una gran difesa di Laurenzano e soprattutto due ace di Lavia hanno chiuso il set in favore dei trentini ai vantaggi 27-25. Da quel punto la partita è andata in discesa per i giocatori di Trento che si sono portati avanti 7-2 nel primo parziale e 7-4 nel secondo riuscendo a tenere sempre in mano le redini della partita costringendo soltanto l'allenatore Soli a chiamare time out sul finale quando Monza con la forza della disperazione ha recuperato qualche punticino senza però davvero mai impensierire Trento. 27-25, 25-20, 25-20, questi parziali dei set, adesso si andrà a giocare gara 2 a Monza e poi si ritornerà a Trento. In questi casi quello che è importante è portarla a casa, portare a casa un risultato importante per noi perché ci permette di andare avanti 1-0 in una serie che sarà complicata ma è l'aspetto complicata perché abbiamo dei progressi con loro che ce lo dimostrano e quindi dovremo stare molto attenti e concentrati nell'alzare il nostro livello per andare mercoledì a Monza e combattere contro una squadra che ci darà tanto filo da torcere. Abbiamo combattuto molto, soprattutto in primo set, era molto vicino quindi siamo stati bravi con la testa, con la pazienza di metterli sempre più in difficoltà e siamo riusciti a impostare il nostro gioco che alla fine è servito per vincere questa partita. Sappiamo che hanno un palleggiatore molto forte che con la palla vicino a rete è tosto, li fa girare molto bene gli attaccanti quindi bisogna per forza staccarli l'unica arma che abbiamo è la battuta, oggi è entrata molto bene sappiamo che in casa ci entra, dobbiamo farlo anche però a Monza.